Addio giornate lunghe. Con l'autunno ormai iniziato e l'inverno che si avvicina, a breve tornerà l'ora solare. Nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre, alle 3, sarà necessario spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro, mettendole quindi sulle due. Da tempo è in corso il dibattito tra i sostenitori dell'ora legale tutto l'anno e i difensori del sistema attuale. Il cambio dell'ora avverrà nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre. Alle 3 di notte sarà necessario spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro, puntandole sulle due di notte. In questo modo saluteremo l'ora legale e dormiremo un'ora in più. Il cambio dell'ora rimarrà valido fino al weekend del 30 marzo 2025, quando risposteremo le lancette un'ora avanti, sempre nella notte tra sabato e domenica. Il primo a lanciare l'idea dell'ora legale fu Benjamin Franklin, vulcanico scienziato e fra i padri fondatori degli Stati Uniti d'America, nel 1784. Nell'articolo sul Journal de Paris la soluzione di spostare un'ora avanti le lancette dell'orologio con l'arrivo della primavera serviva per risparmiare sul consumo di candele e olio lampante. L'idea dello studios dell'elettrictà e inventò, fra l'altro, il parafulmine, però, non venne raccolta fino al 1907 quando il costruttore inglese William Willett la ripropose anche per favorire la produzione industriale in tumultuoso sviluppo. Però fu solo in piena grande guerra, nel 1916, che la Camera dei Comuni stabilì il British Summer Time. Poi altri paesi seguirono le orme del Regno Unito, Italia compresa dove il nuovo orario estivo rimase in vigore fino al 1920. L'ora legale venne infine applicata regolarmente dal 1966, mentre nel 1996 si registra l'adozione in tutta Europa. Verso l'abolizione? Il cambio dell'ora solare all'ora legale è stato introdotto in Europa dal 1966 e, secondo diverse misurazioni, sono molti i vantaggi riscontrati dall'introduzione dell'ora legale. Dal 2004 al 2022, secondo i dati di Ternaspa, società di distribuzione di energia elettrica, grazie all'ora legale in Italia il risparmio sul consumo di energia elettrica è stato complessivamente di circa 10,9 miliardi di kilowattore e ha comportato un risparmio di circa 2 miliardi di euro. Sono soprattutto i paesi del Nord Europa a spingere per mantenere l'ora legale tutto l'anno, sostenendo che ciò avrebbe un impatto positivo sul benessere psicofisico delle persone, oltre che sul risparmio energetico. Sulla piattaforma Change.org è stata anche lanciata una petizione che ha finora superato le 300.000 adesioni, ma una decisione definitiva in Europa non è ancora stata presa, perciò, nonostante il dibattito molto acceso in merito potrebbe portare ad alcuni cambiamenti, è probabile che quest'anno non sarà l'ultima volta che cambieremo l'ora. Questa decisione ha diviso i paesi dell'UE. Quelli nordici, come Svezia e Finlandia, preferiscono l'ora solare, mentre i paesi del sud, tra cui l'Italia, sostengono l'ora legale per i benefici economici e turistici che offre durante i mesi estivi. Nonostante il dibattito, per ora il cambio d'ora resta in vigore. Il passaggio dall'ora legale a quella solare non è solo una questione di abitudini, ma può influire sul nostro ritmo circadiano. Il cambiamento può provocare insonnia o difficoltà di concentrazione. Gli esperti consigliano di adattarsi gradualmente, anticipando o ritardando leggermente gli orari di riposo nei giorni precedenti al cambio. Esporsi alla luce naturale al mattino aiuta a sincronizzare l'organismo con il nuovo orario. Anche quest'anno, nonostante le discussioni, torneremo all'ora solare nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Alle 3 le lancette verranno spostate indietro di un'ora e ci troveremo a barattare giornate più lunghe per un'ora di sonno in più.